Ciao da Avsim! Ozyman salterà la partita contro la Juventus ma non soltanto lui. Dobbiamo parlare di tante assenze e quindi parliamo degli infortunati alla Juventus, del caso Ozyman e del caso dei nazionali che saranno impegnati per la qualificazione ai mondiali con le loro squadre appunto nazionali proprio a ridosso del rientro dalla sosta nazionale, dalla pausa internazionale. Con il discorso dei viaggi appunto transoceanici e della quarantena. Partiamo però con gli infortunati perché come sapete Caglio Giorge che oggi è stato, poco fa, è stato presentato come nuovo giocatore della Juventus, in realtà mentre sto registrando non è ancora successo e non so che cosa ha detto anche perché non seguirò la conferenza stampa, infatti non ve ne parlerò, non ve ne ho parlato. Insomma, vabbè, qui sembra anche un po' di entrare in dark. È già successo però succederà per chi è amante della serie su Netflix. Parentesi a parte, dicevo Caglio Giorge che ha parlato, non sarà disponibile per la Juventus per circa un mese per questo problema muscolare che ha avuto e cioè una lesione di medio grado al retto femorale della coscia sinistra. Si è presentato benissimo, praticamente non è mai entrato in campo, è stato soltanto in panchina a Udine e il giorno dopo, la mattinata in realtà del giorno dopo, quindi in allenamento, ha riscontrato questo problema e quindi sarà fuori un mese. E quindi ciao Caglio Giorge e non sarà quindi disponibile naturalmente neanche per la partita col Napoli. Prendendo la partita col Napoli come riferimento ma salterà anche la partita con l'Empoli e probabilmente anche l'esortio in Champions League. Poi sappiamo che Artur dovrebbe rientrare a metà ottobre per questo problema della calcificazione per cui si è operato a luglio, un mese fa e perché poteva operarsi solo in quel momento perché da quel momento si era finalmente fermata questa calcificazione, era diventata operabile e si parla di metà ottobre ma neanche lo sappiamo con certezza se rientrerà per ottobre, prima o magari anche dopo. Ed infatti per Artur si parla di esclusione dalla lista UEFA ma ne parliamo dopo, ne parliamo di nuovo perché già ne ho parlato. E poi abbiamo Ramsey che si è fatto male ieri per l'ennesima, ennesima, ennesima volta, parliamo degli infortuni di Ramsey, con una lesione di basso grado al grande adduttore della coscia destra. Quindi un Ramsey che si è rotto di nuovo e stiamo all'ennesimo, ennesimo, ennesimo infortunio muscolare per lui e quindi infatti se andiamo a vedere un po' la cronistoria degli infortuni di Ramsey che si è sempre fatto male alle cosce, ha sempre avuto infortuni muscolari anche all'Arsenal. Quindi non è che la Juve l'ha preso ignorando un problema che si è presentato dopo, la Juve l'ha preso a zero dando gli 7 milioni nell'estate 2019 sapendo e dovendo sapere che era un giocatore fragile. Che poi all'Arsenal abbia avuto molto più fortuna nel giocare anche con una certa continuità è un altro discorso. Ma arrivato alla Juventus con un infortunio che patì, ricorderete, ad aprile, quindi era ancora giocatore dell'Arsenal che lo tenne fuori fino al 15 di agosto 2019, è stato fuori quindi 119 giorni. Poi tra agosto e settembre 2019 altri 14 giorni per infortunio muscolare, a ottobre 2019 20 giorni per infortunio muscolare, dicembre 2019 9 giorni, ottobre 2020 altri 7 giorni, novembre 2020 17 giorni, febbraio 2021 15 giorni, marzo 2021 22 giorni per un totale di 150 giorni più questi altri 20 passati da infortunato da quando è alla Juventus con partite saltate 18 più altre 4 circa che dovrebbe saltare 3 o 4 per via di quest'altro infortunio. Sempre che duri solo 3 settimane perché sia per Caio Giorgio che per Ramsey l'infermeria la Juventus ha fatto sapere che tra 10 giorni ci saranno altri esami per vedere gli effettivi tempi di recupero. Quindi un Ramsey sempre rotto e io l'anno scorso avevo detto a me piace tanto Ramsey, lo sapete, per me tecnicamente, a livello di intelligenza, tatticamente è un ottimo giocatore, veramente un giocatore molto forte. Il problema è che è veramente sempre infortunato e questa cosa non cambia tra gli allenatori, lo staff tecnico della nazionale che lui aveva detto durante gli europei mi conosce meglio, è quello della Juventus perché è cambiato anche lo staff della Juventus adesso, è diverso da quello dell'anno scorso e che era diverso da quello dell'anno prima e Ramsey si sta infortunando sempre, sempre, sempre. Quindi è una sua fragilità purtroppo ma a chi lo dai? Come fai a venderlo con 7 milioni che prende? Che cosa fai? Una recessione consensuale? E poi che cosa fai? Lo sostituisci? Perché comunque intanto si sta parlando di un'accessione di McKennie, Artur è ancora infortunato, Locatelli deve ancora entrare nei ritmi e vai a privarti di Ramsey con Fagioli che dovrebbe intanto andare in prestito e anche Ranocchia che va in prestito, quindi la Juve ha già fatto delle scelte di mercato in uscita. La sensazione quindi è che Ramsey rimarrà alla Juventus affrontando questo ennesimo infortunio sperando che sia l'ultimo ma con la certezza che non sarà così e quindi sarà infortunato ancora e ancora e ancora, sta succedendo di nuovo per tornare al discorso di Dark. Quindi in una situazione come questa la Juventus in realtà sa già, e parliamo di lista UEFA, poi parliamo del problema delle nazionali, sa già quelli che saranno i giocatori da tirar fuori dalla lista UEFA, grosso modo, perché metti fuori Caio Giorgio, se Ronaldo resta perché è infortunato per un mese e quindi ti salta l'inizio della Champions e forse anche la seconda partita, metti fuori Artur perché tanto prima di ottobre non rientra e metti fuori pure Ramsey. Più o meno ci dovremmo trovare come giocatori, come profondità della Rosa e alternative ad Allegri per la squadra titolare. Corrabbio che intanto è l'altro infortunato perché già siamo a tre infortuni quest'anno con una sola partita ufficiale giocata che però è finalmente rientrato e sarà a disposizione per i Juventus Empoli. La lista UEFA la Juve la deve presentare alla mezzanotte di giovedì 2 settembre, quella è la scadenza, vi ho già parlato della lista, sono 17 giocatori più 4 cresciuti, fino a 4 cresciuti nella federazione e fino a 4 cresciuti nel club. La Juve di cresciuti nel club ne ha soltanto 3 e poi ha un problema con i giovani perché ce ne vanno troppo pochi in lista under 21 per cui restano appunto come dicevo questi tre esuberi. Al di là del mercato se ci sono questi infortunati il problema o almeno l'imbarazzo per Allegri nella scelta di chi tirar fuori è risolto. Ma dobbiamo parlare del caso nazionale perché appunto i napoletani si lamentano perché manca Ozyman ma dopo vi spiego perché non si devono lamentare i napoletani, i tifosi del Napoli per l'assenza di Ozyman da Juventus Napoli ed anzi vi dico da tifoso juventino che mi dispiace l'assenza di Ozyman perché io vorrei sempre affrontare, vorrei sempre che la Juventus affrontasse le squadre avversarie al top della condizione, al top della forma e al top dell'organico. I nazionali però rischiano di mancare anche loro da Juventus Napoli e persino dalla partita successiva di Champions League quindi non c'è tanto da lamentarsi da parte dei tifosi del Napoli in funzione di Juventus Napoli perché c'è da lamentarsi anche da parte dei tifosi della Juventus per l'assenza dei giocatori della Juve. Il problema qual è? Che la FIFA ha autorizzato al Commable l'aumento delle partite di qualificazione ai mondiali in questa pausa di settembre da 2 a 3. Infatti per esempio l'Argentina dovrebbe giocare il 3, il 5 e il 7 settembre che poi mi devono spiegare come fanno a giocare 3 partite in 6 giorni praticamente, neanche in 4 giorni. 3 partite in 4 giorni, cioè 3 partite l'una a distanza di 2 giorni di 48 ore dall'altra, una cosa mai vista. Quindi è una cosa assurda a prescindere con il problema che, ma in realtà non è neanche tanto l'aggiunta della terza partita se vediamo, il problema è di ben altra origine, dopo rientrati da lì, dall'Argentina, dal Brasile e indifferente, dal Sud America, per quella che è la normativa italiana, ma in realtà anche di molti altri paesi europei, i giocatori saranno sottoposti a 10 giorni obbligatori di isolamento, di quarantena. Questo significa che se Dybala gioca il 7, non può tornare prima dell'8, sta fuori fino al 18. E quindi significa che salta praticamente il Napoli, ma salta anche l'esordio in Champions League e rischia di saltare anche il Milan che sta il 19, perché la Juve gioca appunto il 12 con il Napoli, poi nel mezzo c'è l'esordio in Champions League con la prima partita del girone, e poi il 19, salvo poi potrebbe slittare al 20, adesso è ancora da calendarizzare, c'è la partita contro il Milan, grossomodo queste sono le date, quindi se sta fuori fino al 18 e non può fare allenamenti collettivi, in realtà non sono neanche 10 giorni soltanto, è un po' di più. E quindi qui dovremmo andare nella normativa che però riguarda i governi, è una normativa internazionale, non c'entra tanto il calcio. Il calcio si è intromesso con la federazione, o meglio la Premier League più che la federazione inglese, e la Liga che hanno fatto guerra alla UEFA, secondo me giustamente, dicendo i club che non manderanno in nazionale in Sud America, i loro giocatori sono pienamente tutelati da noi, cioè la Premier League e la Liga si sono schierati a favore dei club che in Inghilterra addirittura all'unanimità hanno deciso, decideranno di non mandarli i giocatori in nazionale. Ed è giusto così. E perché il problema è internazionale ed è di governo anche politico tra le nazioni? Perché bisogna anche cercare di guardare le cose caso per caso. Cioè, se questi sono calciatori che sono sottoposti a test molecolari con una grandissima frequenza, alcuni di loro hanno pure già avuto il Covid, come Dybala, e altri, molti altri, sono pure già vaccinati, perché continuare con questa normativa? E tra l'altro loro vanno a chiudersi in una bolla, cioè possono chiudersi in una bolla. Non sono io che vado in Brasile e nessuno mi può tenere d'occhio, perché nel momento in cui vado in Brasile posso avere contatti con chiunque. Quindi, giustamente, per la presunzione che io abbia avuto contatti e sospetti, dopo che torno mi devo fare l'isolamento. Questi sono calciatori. Li fai partire in una bolla, li fai stare in una bolla e li fai tornare in una bolla. Perché devono fare l'isolamento? Quindi, si dovrebbe superare la regola dell'isolamento per questi calciatori. Mi sembra ovvio, perché è una situazione diversa. Non è poi una disparità di trattamento a svantaggio del cittadino comune. È semplicemente una regola applicata in base al caso. Quindi, andrebbe evitata la quarantena ai giocatori di rientro dal Sud America, ma, chiaramente, se c'è la regola, mi sembra giusto che qualcuno si opponga alla partenza di questi giocatori, perché altrimenti salta praticamente la stagione. Il problema della quarantena andrebbe risolto proprio anche da parte della FIFA, perché altrimenti i giocatori sudamericani e nazionali non ci fanno più. come non sono andati, a differenza dei calciatori europei, per una o due volte delle international break nella stagione 2021. Ricorderete che ci sono state delle pause nazionali che sono state a pannaggio esclusivo degli europei, dei giocatori europei. Gli sudamericani e gli americani non si sono mossi, perché non ci si poteva muovere. Lì, appunto, proprio per questo si sta cercando di fare una partita in più, perché devono recuperare delle partite che non sono riuscite a fare. Se non risolvono il discorso della quarantena, è normale che resti tutto bloccato. È chiaro che poi, se aspettate che Paolo D'Alpino, presidente della Serie A, o Gabriele Gravina, presidente della FIGC, prendano posizione per primi, buonanotte, potete dormire sonni tranquilli. Loro arriveranno sempre dopo, arriveranno sempre dopo, perché guai che l'Italia prenda posizione netta contro il potere mondiale, nel senso che in questo caso si parla di un po' tutti i governi e si parla della FIFA. Può mai la FIGC mettersi contro la FIFA? Ma non esiste. Si autoscomunicherebbe. Non entro nel merito, perché, insomma, traspare la mia delusione abbastanza ampia e profonda rispetto a Gravina e D'Alpino per come gestiscono le cose a livello politico. E togliamo il discorso dei nazionali e parliamo allora di Osimène. Perché, come vedete, se appunto FIGC e Lega Serie A non prenderanno posizione come hanno preso posizione Premier League e la Liga, c'è il rischio che la Juve giochi contro il Napoli, ma anche contro il Milan, ma anche nel mezzo in Champions League, senza Dybala, senza Alexandro, senza Danilo, Caio Giorgio, vabbè, anche infortunato, senza Quadrado. Quindi quanti giocatori, e quali giocatori, quanti e quali giocatori mancherebbero all'appello? Tanti, troppi. E quindi, attenzione, perché, insomma, parlare della semplice assenza di Osimène che è tutt'altro discorso e lamentandosene è una mancanza di rispetto verso chi rischia di non aver fatto nulla di male, tra l'altro, per avere questi giocatori out, che sono più di uno e sono anche complessivamente più importanti. Per quanto sia importantissimo Osimène per il Napoli nelle dinamiche tecnico-tattiche. Perché possiamo dire che la Juve non ha fatto nulla di male? Perché non ha deciso la Juve che Dybala sia argentino e che debba andare in nazionale perché l'ha deciso il CT e che di ritorno ci sia la quarantena. Mentre il Napoli è, tra virgolette, colpevole in diretto perché è Osimène che ha tenuto un comportamento che in campo non doveva tenere. Stiamo parlando di Napoli-Venezia 2-0 nonostante l'espulsione di Osimène il Napoli è riuscito a vincere una bella partita una bella prestazione sia del Venezia sia del Napoli e ci sono lamentele. Ma perché ci sono lamentele? Perché ci si basa sull'ignoranza sull'ignoranza, cioè sulla errata conoscenza dei fatti e delle regole. Cioè si vede Osimène squalificato per due giornate dal giudice sportivo e si grida allo scandalo automaticamente e a prescindere perché una delle due partite di squalifica è contro la Juventus e se Osimène fosse stato squalificato per una sola avrebbe potuto giocare, potrebbe giocare contro la Juve. Quindi a prescindere, capite? Perché è un'ingiustizia a prescindere senza conoscere le regole come se la giustizia si facesse sulla base dell'opinione del popolo. Guai se fosse così soprattutto con il popolo tendenzialmente ignorante e impreparato che siamo e che abbiamo in Italia e quindi le regole dicono tutt'altro dicono che l'arbitro ha qualificato il gesto di Osimène come uno schiaffo come abbiamo appreso dalla decisione del giudice sportivo. Il referto arbitrale non è pubblico quindi andiamo per deduzione non sappiamo che cosa realmente ha scritto l'arbitro ma vista la decisione del giudice sportivo capiamo che l'arbitro ha qualificato quel gesto come schiaffo. Lo schiaffo rientra nel caso della condotta violenta. La condotta violenta, prevista dal regolamento del gioco del calcio edizione 2021 pagina 97 della regola 12 qualifica come condotta violenta non solo lo schiaffo, il calcio cioè il gesto violento ma anche il tentativo di gesto violento. Siccome Osimène si gira verso l'avversario nel tentativo di colpirlo e poi lo colpisce anche quello non può non essere un gesto violento è un gesto violento punto e basta condotta violenta, cartellino rosso sul cartellino rosso non si discute perché è condotta violenta poi c'è il discorso della squalifica sui turni di squalifica non dobbiamo guardare il regolamento del gioco del calcio ma il codice di giustizia sportiva della FIGC che all'articolo 38 dice che salve attenuanti ed aggravanti nel caso di condotta violenta la squalifica minima è di 3 giornate minima è di 3 giornate Osimène ha preso 2 giornate più 5000 euro di ammenda quindi non ha avuto la squalifica minima ha avuto meno del minimo e dobbiamo leggere sui giornali che la squalifica di Osimène è stata raddoppiata da 1 a 2 giornate allora voi siete libri di leggere i giornali che volete ma vi fate prendere in giro se li leggete quindi cercate di approfondire di leggere il regolamento di capire e di non dare fiato alla bocca solo perché avete aria e quindi decidete di far vibrare le corde vocali parlando ma soprattutto scrivendo sui social perché altrimenti andiamo ad alimentare fake news andiamo ad alimentare l'ignoranza e l'odio e l'odio perché poi i tifosi del Napoli odiano la Juve perché la Juve corrompe il sistema facendo squalificare Osimène per il doppio delle giornate quando invece Osimène ha avuto meno del minimo meno del minimo il doppio sarebbe stato 6 non 2 capite? quindi non vi fate prendere in giro non vi fate prendere in giro cercate di reggere il regolamento è di capire perché altrimenti se avete un'ignoranza specifica in un ambito vi resta e invece di andare avanti e di migliorare andate indietro e peggiorate e poi andate anche ad inquinare i social con una serie di opinioni completamente fuori luogo completamente infondate perché sono slegate dai fatti ma purtroppo oltre che dai giornali talvolta siete condizionati anche parlo ai tifosi del Napoli ma non solo anche da creator da pagine cioè da quelli che poi vi aizzano a dire è clamoroso Osimeno squalificato per due giornate non mi riferisco a nessuno perché non so come è stata gestita questa cosa però immagino perché tutte le altre volte è andata così Osimeno squalificato per due giornate vergogna vergogna di cosa? vergogna sì perché doveva prenderne tre ma non perché io sia tifoso della Juve e voi io vorrei vedere Osimeno in campo ma se il regolamento dice che il minimo è tre deve essere squalificato per tre ora il Napoli farà ricorso otterrà la squalifica di una sola giornata sulla base di cosa? ha già il giudice sportivo ha già riconosciuto delle attenuanti e non ha dato la terza giornata di squalifica quindi sulla base di cose se dovrebbe scendere da due a uno non si sa scenderanno a una sarete tutti contenti ma quella sarà eventualmente una stortura una distorsione del diritto ed invece reclamate l'abbassamento della squalifica per Osimeno come se fosse una stortura avergliene date due di giornate sì ma nel senso che ne meritava tre quindi lamentele sull'assenza di Osimeno contro la Juve assolutamente fuori luogo bisognerebbe invece parlare delle assenze dei nazionali per la questione appunto della quarantena poi per quanto riguarda gli infortunati alla Juve sorvoliamo perché sappiamo come va la situazione grazie per la vostra attenzione buon dibattito nei commenti allora su Osimeno sulla questione della quarantena e anche su Rams e gli infortunati alla Juventus mettete like al video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale attivando le notifiche per non perdere i prossimi contenuti ci vediamo molto presto e sempre forza Juve